Ciao ragazzi bentornati sul mio canale, oggi parleremo insieme di un argomento veramente veramente importante riguardante le maglie vi spiegherò tramite un tutorial come riconoscere se una maglia è originale oppure falsa in questo episodio ci concentreremo sul brand Nike come capire se una maglietta che vogliamo acquistare o scambiare è originale oppure fake, falsa, tarocca, chiamatela come volete siete pronti? partiamo! ah vi ricordo se ancora non lo fate di seguirmi e soprattutto mettete un bel like a questo video la prima cosa da fare per scoprire se la vostra maglia Nike è originale è guardare l'etichetta interna ragazzi prendiamo una di queste tre maglie e guardiamo insieme come fare prendiamo come esempio questa quarta maglia dell'Inter stagione 2020-2021 quello che dobbiamo fare è cercare all'interno della maglia le etichette una volta trovate quella che interesserà a noi sarà l'etichetta più piccola il codice che dobbiamo prendere come riferimento è quello sotto la taglia M CV8408101 a questo punto apriamo il nostro motore di ricerca e riscriviamo il codice che abbiamo trovato e letto sull'etichetta premiamo invio e andiamo a vedere il risultato nelle immagini se nelle immagini risulterà la maglietta di riferimento in quel caso allora la nostra maglia è una maglia originale in caso contrario la maglietta sarà fake facciamo una prova anche sulla maglietta del Barcellona Home stagione 2022-2023 cerchiamo l'etichetta più piccola all'interno della maglia e digitiamo il codice che troviamo sotto la taglia riportiamo il codice su Google diamo l'invio e cerchiamo nelle immagini il risultato se la maglietta risulterà la stessa allora quella maglia è originale in caso contrario sarà un fake ed ecco che vi ho svelato come scoprire se la maglietta che dovete acquistare o scambiare o che avete in collezione della Nike è originale oppure fake ragazzi è un metodo davvero veloce provateci anche voi non lasciatevi fregare ragazzi spero di esservi stato d'aiuto lasciate un bel like e ricordate sempre evviva le maglie